E' inaccettabile che la vita di 446 milioni di cittadini europei e di 7,8 miliardi di esseri umani dipenda da un pugno di aziende farmaceutiche. Non dobbiamo consegnare la nostra vita a Big Pharma. L'Italia e l'Unione Europea possono e devono fare immediatamente tre cose. Primo, ricorrere alla licenza obbligatoria, cioè a quella clausola interna agli accordi commerciali sui brevetti, che autorizza un Paese che si trova in crisi economica e che deve fronteggiare una pandemia a produrre farmaci generici scavalcando i brevetti. Secondo, Italia e l'Unione Europea devono appoggiare la proposta dell'India e del Sudafrica per una moratoria sui farmaci e i vaccini per il coronavirus. Terzo, l'Unione Europea deve rivendicare il brevetto come bene pubblico, come bene comune per tutti quei farmaci e quei vaccini che sono stati prodotti grazie al finanziamento pubblico. Si stima che tra il 2020 e il 2021 le grandi aziende farmaceutiche si divideranno circa 20 miliardi di dollari di soldi pubblici. Per sostenere queste proposte firma e fai firmare la petizione europea.